Sembrate così fighi dalle clip, di come cazzo stanno messi queste? Imbrutiti, siamo venuti all'evento organizzato da Samsung per la presentazione del Galaxy Note 8 per fare qualche domanda di cultura generale. Venite con noi. Chi ha inventato il telefono? Mangione! Da Vinci! Samsung. Non sono studiato, mi dispiace. Che cos'è un ologramma? La figa! Allora, un ologramma è un tipo di scrittura? È una forma geometrica. Una cosa egizia? Ha già detto tutto lui! Che teoria ha elaborato Copernico? Il giro del mondo. Terra rotonda. La teoria della relatività. La teoria della figa. Fatti fai te le domande, dai. Se ti dico la parola grosso, cosa ti viene in mente? Note 8. Axwell Ingrosso, cioè Ingrosso per il DJ. Tu sei qui per Sebastian Ingrosso? È ovvio. In inglese, manda un messaggio a Sebastian. No, 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 non c'è chi è Sebastian. Scemi che siete. In che anno l'uomo ha messo piede sulla luna? Quest molto difficile. 2000 avanti Cristo. 2000 avanti Cristo. Chi è che ha messo i piedi sulla luna? No, in che anno è stato messo il primo piede sulla luna? Ma come facci a saperso? Sono troppo giovane. Cioè, tu pensi che l'uomo ha messo 2000 anni prima di Cristo il piede sulla luna? Sì. Allora, facciamo così. Vi faccio vedere dei personaggi. Sì. Tu mi dici chi sono. Lui. Monti. Scalfano. Mattarella. Mamma che brutto. Non la so la politica, ma che lo so io. Lui. Musica. Pannella. No, è un cantante. Questo è Jimi Hendrix. Bob. Questo. Ping Gyeonggiang. Presidente cinese. Ping Gyeong. Mao Zedong. Quello della Cina. Kim Jong-Kul. Ping Jong-Kul. Minchia! Ma loro le vedono queste foto di fighe? Pratastovic. Pornostar. Oh, questa è quella. I don't know you want. I don't... Emily Sands. Ratsos Ghosky là. È quella la, questa la conosciamo. Lei è finita che l'abbia messa così per tepatia. Lui. Mike Tyson. Quello che canta... Sembra un modello, ma non lo so. Lei. Non lo so. Cantante. Italiano. Versace. Questa è mia madre. Che è mia madre? Fatti bravo. Chi è lui? Giovanni Rana. Raymond Dovianello. È spagnolo. Pablo. Pascoban. Neruda. Io non li conosco questi personaggi. Gianluchino. Gianluchino Vacchi. Vabbè questo... Gianluca Vacchi. Lui è famosissimo. Aspetta, aspetta. Vacchi. Gianluca Vacchi. È il mitico Gianluca Vacchi. Mister Enjoy. Cazzo, lo adoro. Enjoy. Non conosci Gianluca Vacchi. Ma? Ma non conosci Mina. È Mina? Eh sì. Ci faccio il PC? Sì. Parecchio. Invece no, bravi. Bravi. Salutiamo gli amici di Calciatori Brutti. Un bacio. Ciao ragazzi. Il Milanesi Imbruittito. 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 C'è, molla mi cazzo. Al Milanesi Imbruittito. Le altre pagine devono fare top. Il Milanesi Imbruittito.